Ciao a tutti e bentornati in un nuovo fantastico video, io sono Valt X Y e oggi qua abbiamo una sorpresa Girando per i mercatini ho trovato qualcosa che per me è davvero eccezionale Diciamo che voglio fare questa piccola unboxing bar recensione Premetto già che questo non è un video professionale quindi Gli amanti delle armi, delle pistole Non criticatemi troppo perché purtroppo io non sono troppo professionale Sono anche un po' emozionato e quindi cercherò di presentarvi al meglio ciò che ho trovato Allora il sacchetto fa ridere perché è della ortopedia spadoni ma non c'entra un cacchio no Con quello che vi vado a presentare non c'entra proprio niente Ma smettiamo di perdere tempo e guardiamo cosa ho trovato Alla modica cifra di 49 euro Cosa ho trovato? Allora Qui abbiamo una valigetta Cosa ci sarà dentro? Beh ho parlato di pistole potete già presumere no? Allora Abbiamo dei colpi di una marca non tanto buona Praticamente di 49 euro ci siamo portati a casa questa roba qui Allora Una protezione integrale della Benelli Non facciamo pubblicità però comunque è della Benelli Olio per precisione Una fondina Una fondina della marca Vega Holister Non so perché La fondina perché Premetto già che è una pistola salve Una scacciacani Quindi non so cosa serve la fondina ragazzi Però è una bella fondina Grazie Poi abbiamo una scatola di questa marca qua Che dalle recensioni ho visto che è molto scadente Non è buona È una marca turca E Vabbè ci accontentiamo Una scatola è piena E costava 11 euro Quanto pare E un'altra scatola Come vediamo Mancano dei colpi Che è questa qua Mancano dei colpi Vedete Mancano un po' di colpi Vabbè vi faccio vedere Un proiettile diciamo Come potete vedere 9 mm pack Un po' più grandi di quelli normali Che di solito hanno le pistole A salve Di solito magari molte hanno anche addirittura gli 8 mm Ma questo diciamo che è un pelino Un po' più realistico Vabbè Bando le ciance Andiamo avanti Quindi praticamente abbiamo Vabbè lo spray della Benelli Non so quanto posso costare Mettiamo un 5 euro di valore Che è Secondo me forse anche troppo Una fondina della Vega Penso che può costare sui 15 euro Credo Forse 9 Boh Abbiamo una Un Un pack intero di colpi Da 11 euro E uno Un po' iniziato Che gli darei un valore Di 7 euro Quindi abbiamo già Un po' Di roba In più qua abbiamo La cosa che ci interessa di più Che è la pistola ovviamente Che pistola sarà Vabbè c'è scritto nel titolo Qua è una Bruni Che fa le rettiche ovviamente Voilà Ragazzi guardate Che gioiello Che gioiello ragazzi Vabbè Qui abbiamo ovviamente la spatolina Per pulirla La spazzolina o spatolina Come la vede chiamare Guardate che gioiello Guardate Guardate che bella Guardate che gioiello Per essere Insomma usata È tenuta abbastanza bene Ragazzi Ovviamente di cosa stiamo parlando Di una replica della Bruni Della berretta 92 FS O 98 FS A seconda In questo caso c'è scritto 92 E sarebbe data in dotazione All'esercito Però Diciamo che La consideriamo Una 98 FS A uso civile 9x21 Sparerebbe in teoria Qua invece abbiamo 9mm pack Che direi che Comunque è una bella replica Scusate i termini Non sono Ripeto molto professionale La pistola Ha un peso Da 1,1 A 1,2 Kili Quindi diciamo Che è bella pesante Il materiale Con cui costruite Ovviamente È Zama La lega di Zama Ha una lunghezza Di 22 cm E Diciamo che Ovviamente Abbiamo già detto Che È una 9mm pack Azione doppia Caricatore bifilare Colore ovviamente Lo potete vedere Che è nero È top firing Perché in Italia Ovviamente è permesso Solo il top firing Potete vedere Il bucanino In cima Purtroppo in Italia Solo il top firing Che la rende Molto meno realistica Ovviamente Tappo rosso Frontale Scusate Qua qualcuno Ha provato a cavarlo Non sono stato io Ma qualcuno Ha provato a cavarlo Ovviamente il proprietario Di prima si sentiva Non so chi Infatti per girare Anche con una fondina Non so chi era Forse una guardia giurata Non ne ho idea Che esaltro dire Vabbè La pistola è Semi automatica Il caricatore Bifilare Dovrebbe tenere Undici colpi Vi faccio vedere Ovviamente Riporta sempre Le sigle Riporta sempre Le sigle Che è Nascacciacani Per far sì In modo che Non sia Troppo realistica Diciamo Comunque Magari Nelle mani Di un A prima Occhio Così Cavando il tappo rosso In mano a qualche Inesperto Potrebbe sembrare Anche vera Potrebbe Ma ragazzi Queste qui Da tenere in casa Contro i ladri Sono inutili Anzi Vi farete solo Sparare addosso Quindi evitate Se la comprate Per i ladri Lasciate stare Perché Vi fate sparare Addosso Con questa Piuttosto Prendetemi Una pistola Piombini Che Che fa più danno Rispetto A questa Se dovete Proprio avere Un'arma Offensiva Perché questa Vi farà solo Sparare addosso Perché se voi Cavate il tappo rosso La tenete in casa Per i ladri Lui vede questa Magari è armato Anche lui Vi spara addosso Voi invece gli fate Avete capito Le pugnette Per dire Comunque Tornando Alla recensione Come scacciacani Ovviamente Molto bella Ripeto Qua abbiamo La sicura Come potete vedere Funziona come Nella vera E Abbiamo Abbiamo qua Questo movimento qua Che servirebbe Per Praticamente Rimuovere Il carrello No Ma In questa replica Non è uguale A quella realistica Vabbè Il cane Ovviamente Come potete vedere Volevo farvi vedere Perché l'abbattitore Del cane Non è uguale Però Non so come mostrarvelo Però vabbè Comunque Come funziona Il meccanismo Di questa pistola Praticamente Voi quando Quando andate a sparare Ovviamente Il colpo Non uscirà Dalla canna Perché essendo a salve Quindi Quello era ovvio Ma sarà Semplicemente Scusate la toss Il meccanismo Della molla A fermare Il colpo Che andrà a sbattere Contro Lo blocchetto E tornerà indietro Insomma Farà un botto Il botto Di quest'arma Più o meno È abbastanza forte Purtroppo Questo video Non ci sarà Allo sparo Perché Sono in una zona Dove non posso Sparare E appena potrò Porterò Diciamo Un po' di colpi Appena potrò Andare su un fiume E tornare in campagna Proverò Quest'arma E vi farò vedere In sequenza Il rumore Che fa Comunque L'ho provata Una volta E vi dico Che se la Se Non siete abituati A sparare Il botto Si sente E vi farà Fischiare L'orecchio Per abbastanza Tempo Detto Questo Si Se portate Indietro Ecco Volevo farvi vedere Com'è fatta All'interno Scusate I dettagli Ripeto Scusate La recensione Ma Io non è Che sono Molto preciso E non so Molto parlare Di armi Purtroppo Mi piacciono Ma Non sono Un genio Nel parlare Tutto quanto No E Niente Volevo dire Le guancette Sono fatte Molto bene E Mi sembra anche Curata abbastanza Nei dettagli No E Niente Per gli appassionati Non guardate Il mio video Perché Purtroppo Ripeto Il mio linguaggio Non è Troppo furbito E Il cane Sì Non è tornato Indietro Ma Cioè Non è stato Battuto Perché È una Replica Ed è Una Come posso dire È fatta bene Ma non Così Realistica Come quella Vera E Niente Cos'altro Posso dirvi Questa qui È la 9mm Pack Come abbiamo detto È una replica Migliore Rispetto Alla 8mm È un po' Più Realistica Non comprate Quei colpi La Vi consiglio Sconsiglio Di comprare Quei colpi La Ma comprate Dei colpi Più Buoni Cosa posso Aggiungere Nel video Ah Allora Esteticamente Rimane Sempre Una Delle Più Belle Armi Che ci Siano Che ci Sono In Italia No Come saprete È stata Anche Adottata Dall'esercito Americano Quindi È molto Affidabile E Diciamo Che come Prima Arma Se Se La Volete Comprare Come Arma Vera Intendo Diciamo Che Non è Proprio Consigliata A Uno Che Che È La Prima Volta Che Va A Sparare Per Il Fatto Di Tutte Quelle Levette Tutte Quelle Sicure No Sarebbe Come Difesa Personale Diciamo Che Non È Il Top Secondo Me Perché Ha Troppe Sicure Diciamo Che Non È Che In Che Secondo Secondo Che Forse Più Facile Un Revolver Come Difesa Personale No Detto Questa È Solo Una Mia Opinione Non È Niente Altro No Siamo Usciti Un Po Off Topic Da Questa Recensione Da Questo Unboxing No Comunque La Pistola Nuova La Potete Trovare Su Amazon Al Modico Presto Che Si Agire Dai 69 Ai 79 Euro E Vi Viene Fornita Ovviamente Senza Colpi Io Ovviamente L'ho comprata Usata A un mercatino Dell'usato Quindi Speso Ben Poco Sono Contento Di Aver Speso 49 Euro Sono Contento Della Replica Ve La Consiglio Perché Per me È Molto Bella È Molto Realistica Ha Un Peso Veramente Eccezionale Ovviamente La Pistola Non Va Modificata In Nessun Tipo Di Genere Il Tappo Questa Pistola Perché Vi Fate Ridere Dietro Perché Se ne Accorgono Subito Che Ha Il Buco In Alto Per Capirci No E Quindi Ragazzi Fate Una figura Di Merda Non Usate Questa Arma In Modo Offensivo E Neanche Difensivo Cioè Nel Senso Va Bene Da Utilizzare Perché Uno Compra Una Scacciacani Perché Se Uno Va A Fare Un Giro Nel Bosco Va A Fare In Giro Nel Fiume Potrebbero Eserci Dei Animali Selvatici Pericolosi Ci Potrebbero Essere Dei Cani Selvatici Va Bene Per Allontanare Animali Selvatici Ma Non Per Ne Offendere Ne Ne Tantomeno Per Fare Stronzate Ecco Ragazzi Non Fate Boiate Non Girate Con Questa Pistola Con La Fuderina Perché Questo Qua Che Girava Con La Fuderina Un Patacca È Un Patacca Io Non So Chi Cacchio Ce L'aveva Ma È Un Patacca Non Voglio Durare Ancora Lungo Perché Sto Video Dura Già Troppo Chiedo Ancora Scusa A Tutti Gli Amanti Delle Armi Ma Io Più Di Così La Recensione Non Riesco Farla Perché Mi Impappino È Già La Quinta Volta Che Provo A Registrare Il Video E Non Riesco Non Sono Non Sono Così Professionale No Cos'altro Ancora Potrei Aggiungere In vendita C'è solamente Questo Colore Non Ci Sono Altri Colori La Versione 8 Millimetri Costa Leggermente Di Meno Ma La Sconsiglio Perché È Meno Realistica Nient'altro Vi ringrazio Per la Visione Se Vi 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 Like Iscrivetevi Il Mio Canale E A Prossimamente Vi Giuro Che Se Riesco Vado A Tirare I Col Tutto Il Caricatore Porca Trovi Scarico Tutto Il Caricatore Mi Diverto Anch'io Cacchio Vado A Scaricare Tutto Il Caricatore Sull'argine Insomma Su Un Posto Isolato Tranquillo E Così Vedete Anche Come Spara La Pistola Se Tranquillamente Che Non Ha Problemi Che Non Si Inceppa Anche Con Sparando Tutto Il Caricatore Di Continuo E Anche Usandola Molto Spesso Ecco Nient'altro Basta Vi Lascio Andare Perché Il Video Si è Prolungato Troppo Ciao Tutti Ciao Ciao Ciao